Signor Van Mair, buongiorno. Ieri l'altro non so come fuci, perché mi ho di vista. Mi dispiace che dovete assentarsi. Ma non si ricorda di me? Mi invitò nel suo tassi per andare a Savon. Scusi, signor Van Mair, posso fotografarla? Grazie. Guardami, pastore! Guardami, pastore! Guardami, pastore! Seguite quella macchina, presto!